Al centro di questa celebrazione, che appare tanto fastossa, c'è la parola che abbiamo ascoltato nell'inno della lettera ai Filippesi, «Umigliò se stesso». L'umiliazione di Gesù. Questa parola ci sveglia lo stile di Dio e, in conseguenza, quello che deve essere del cristiano, l'umiltà. Uno stile che non finirà mai di sorprenderci e di metterci in crisi, a un Dio umile non ci si abitua mai.